Numero 19, c'è in posizione. Numero 19, in posizione. Fa scattare l'allarme del mannino. Subito, numero uno. Sai che detesto lamentarmi, ma vorrei proprio che adesso non fossimo in picione. Nessuno mette a bevi in una cella. Ehi! Fatesi uscire! Ok, torniamo noi stessi e andiamo a baciare. Sulla bocca! Sulla bocca!